Il Minion fatto coi preservativi! Questo cos'è? Il pessimista! Ciao a tutti! Oggi il primo video dalla Thailandia con la nostra amica Cherry! Ciao! Lei lavora a Dubai e fa la hostess e ci conosciamo da... How many years do we know each other? Like 10 Ci conosci... 15 Oh! Right! 14 actually! Ci conosciamo da 10 anni Ci siamo conosciuti in Cina tra l'altro Allora premetto che non è stata un'idea mia Ma oggi andremo nel ristorante Cavolo e preservativi! Cabbage and condom E' stata un'idea sua eh! E' stata un'idea sua! Traffico di Bangkok! Signore e signori! Taxi rosa! So I'm gonna follow you because you're the expert Please show us! Ok go! Guardate quanti cavoli! Cavoli e preservativi! Guardate come sono belle queste lampade! Guardate che meraviglia! Yeah! Do you wanna see? Oh! Ready to order? Yes! I'm gonna skip the... Canapul fire rice! Yeah! It looks so nice with all those lighting... Decoration! Since you are from Thailand you should explain! The clown! Flasher oil! Oh! Che belle cose veramente! Ah questo qua è l'uomo che va sul sicuro! The gamekeeper! Questo è l'uomo invisibile! Questo cos'è? Il pessimista! E guardate anche queste lampade quanto sono belle romantiche! Vabbè tanto ho già capito che questo video non sarà monetizzabile quindi ho detto vabbè a sto punto! Oh guardate che c'è anche la Mona Lisa là dietro! La Mona Lisa che tiene in mano ovviamente due condom per essere sicura di non andare a rimanere incinta! E guardate che bello! Ci sono anche i frutti sempre fatti con i preservativi! Ma che meraviglia! Mi raccomando lasciate un bel mi piace! Guardate che belli anche questi fiori! Guardate che meraviglia! E' bello però è un bel messaggio che lascia questo ristorante che andate sempre sul sicuro che non si sa mai! Specie di questi tempi! Vabbè comunque cioè fa ridere perché sembra anche un posto romantico e invece insomma vabbè è particolare! E c'è anche il Super Condom Man che vi da dei consigli utili! La nostra amica Cherry ha detto che la sera è super bellissimo sto posto perché diventa tipo tutto acceso con queste luci quindi diventa proprio carino! E' più bello la sera forse questo ristorante! Questi sono dei veri profilattici che non sono mai stati usati! It's good to be family friendly! Guardate qua per i bambini che c'è anche il minion fatto con il condom! Oh il riso nell'ananas! I like this one! E qua abbiamo anche un po' di pollo dentro la foglia! Quante cose buone! Queste sono con la patata dolce e queste invece sono con i gamberetti! Assaggiamo il pollo dentro la foglia! Buon appetito ragazzi! Com'è? Haloy! E' buono? Haloy significa buono? Haloy! 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 Sembra una parolaccia però Haloy vorrebbe dire una cosa buona! Vabbè se vi è piaciuta la nostra Cherry che ha già fatto vedere questo posto meraviglioso andatela mi raccomando a seguire su Instagram ve lo lascio qui! Che bello! Ci hanno dato i propri lattici a fine pasto! Guardate che meraviglia il vestito tradizionale della Thailandia! Guardate quanto è bello! Anche i capelli sono tutti fatti di questo materiale! Latexoso! Questo sarà il vestito che Sol Mafia indosserà per il mio prossimo music video! Direi che è bellissimo! Guardate quanto è felice questa ragazza! Questo a dirvi la verità è anche bello! E' un bel vestito da sposa secondo me questo potrebbe anche essere! Anche le scarpe! E guardate quanto è felice questa bambina! Oddio! E infine per finire il trash del trash ecco Santa Claus! Qua abbiamo anche Babbo Natale con la barba fatta di... Vabbè ok! E qui abbiamo un tenero orsetto e un bellissimo elefante! Che belle queste luci! E adesso siamo andati nella Korea Town! K-Town! In Bangkok! Che praticamente la parte coreana è un bel po' di ristoranti coreani! E voi vi chiederete... Ma che è sto... Ehehehe... E' una decorazione in pieno stile coreano! Chi saprebbe riconoscere la gnocca di bambù? Vi rendete conto che stava per prendere un taxi normale? Taxi rosa! Taxi rosa! No! Se non è rosa io non ci salgo! Oh mio Dio che momenti! Stiamo per salire su un taxi rosa! Ma non li becco mai! Ragazzi! Ragazzi! Taxi rosa! Che emozione! Ragazzi! Se prendete un taxi a Bangkok guardate che ci sia questo adesivo con la telecamera! Così se per caso il taxista si comporta male è tutto ripreso dalle telecamere! E inoltre potete premere questo pulsante se avete bisogno d'aiuto! E un'altra cosa divertente! Questo taxi non funziona se non passa la carta a sinistra! Quindi se passa quella carta lui lo può guidare! Altrimenti no! Quindi si sa chi ha guidato questo taxi! Mamma mia quanta tecnologia! Salutiamo così il nostro taxi rosa! Queste banane si chiamano dita! Vedete che sembrano dei ditini! E guardate che c'è anche una paperella! Ciao papera! Ciao! Adesso qui siamo vicini a Chinatown! Vedete quella è la città cinese! Ma adesso stiamo per andare in questo caffè che ci hanno suggerito in tanti! E questo caffè floreale che si chiama Nappasorn! Guardate che bello questo caffè! E guardate che bella la mia maglia di Lilo & Stitch! Se vi piace questa maglia lo trovate in descrizione lo sconto per comprarla! Però dai non è male! Quindi ragazzi se volete comprare questa maglia di Lilo & Stitch andate nel link! Che vi fanno anche 15% di sconto! L'amicizia è come un fiore! Con l'amore e care crescerà forte! Guardate però quanto è carino questo caffè! Mi piacciono un sacco le decorazioni che c'ha! Mmm che buono il profumo delle rose! Allora scrivetemi nei commenti come vogliamo chiamare le gnocche di bambù thailandesi! Perché serve un nuovo nome! Quindi scrivetelo nei commenti! Bene adesso proviamo la torta di carote! Guardate quanta carota si vede dentro! Assaggiamolo! Vabbè ragazzi oggi è il giorno che posso fare cheat day! Quindi posso mangiare un po' di schifezze! Guardate che carino! C'è anche un micetto! Quanto è bello! Vi siete visti vero il mio video con i neko caffè? Bene ragazzi dopo il neko caffè non me ne voglio più andare! Non so che cosa ho nel naso! Facciamo la spesa in Thailandia! Adesso ci beviamo questo che è fatto con i... Caramel drink! Eh appunto! E' fatto con dei fiori! Dei fiori farfalla! Sarà buono! Lei dice di si quindi lo assaggiamo! E' fatto con il butterfly flower! A proposito di flower! Vi siete scaricati flower? Se mettete dentro il limone cambia il colore diventa viola! Abbiamo preso delle banane un po' di pollo e poi questo... Quale non è che? Dragon fruit! Dragon fruit! Comunque ci sono anche gli ovetti Kinder eh! Guardate che carina la torta con l'onicorno! E qui fanno anche le brioche! Guardate quante ce ne sono! Vabbè ragazzi! Allora notizia divertente! Ho comprato questo per pulire i pavimenti a un dollaro! E gli faccio al tipo! Oh guarda che figo! C'ho cinque butt! E è venuto fuori il condom e è partito per aria! Mamma mia! E Nekki diceva Oh tu sei molto buono! E ora non so se ho detto che sono molto buono con l'argento Come mangiare l'argento O se sono molto buono perché sono sicuro! Scriveteci nei commenti se secondo voi il tipo mi ha detto che sono bravo Perché ho comprato questo tipo che è il prezzo giusto O se per altri motivi Adesso vado a casa che sta per uscire il nuovo video! E così ci troviamo tutti in chat! Taxi rosa e anche il detersivo rosa! Ma che bello! We are on the run tonight! Scaricatevi la canzone di on the run trailer! Eccoci arrivati a casuccia! Siamo proprio in cima! Eccoci qua! 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 Qui ha fatto ia accettare Chiam incontro la mia pimentazione situazione Ok, non vieni vicino Oh mio Dio, è veramente un disastro No, aspettate un secco Adesso ho 5 minuti per mettere a posto casa Proviamo queste maschere comunque Vediamo che cosa nasconde la maschera misteriosa Gian 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 Allora, vediamo Credo che si sembra molto bello Non è? Perfetto Ti sembra molto bello Non? Ti sembra interessante Ok, l'amore è un po' Sì, la mia è un pezzo Mi sembra molto bello Non è vero No, non è un po' No, non è un po' Non, non sono un po' Oh, è un po' Oh, potrei' un po' Ma tu non c'è un po' Quasi mia Oh, è troppo grande Oh, questo è bello Questo potrebbe essere la copertura del video È troppo grande, oh mio Dio Questa è la stanza che ho deciso Questa è la stanza per fare Oh, guarda che muscoli Questa è la stanza che ho usato per fare il bucato Perché c'è la stanza per il bucato Oh Gnocca di bambù Gnocca di bambù Gnocca di bambù No That means like pretty girl Pretty girl Pretty girl Pretty Japanese girl It's called gnocca di bambù Everybody will understand you in Italy Really? Yes, yes, yes White people should come to Bangkok No, not taxi Rosa Let's take this off Are you waiting for a taxi? Do you want a pink taxi or any taxi is fine? Any taxi Bye bye Non ci credo, sta salendo su un taxi verde e giallo Ciao